Un salone di parruccheria dato alle fiamme, una Nissan Micra incendiata, a fuoco anche il portone di un appartamento in via Lilla a Scicli, messo a scompiglio un supermarket, diverse auto rigate ed un appartamento derubato e il folto curriculum di reati quasi tutti confermati da parte delle forze dell'ordine commessi da un tunisino di 37 anni piromane ma ancora in circolazione a Scicli o meno fino a qualche ora fa, dato che l'uomo dopo aver fatto entra e esci dall'ospedale psichiatrico adesso si trova ricoverato all'ospedale maggiore di Modica dopo essere stato aggredito dai gnoti nel pieno centro storico di Scicli. I motivi di tale pestaggio restano ancora sconosciuti ma è certo che il tunisino nei mesi passati ha collezionato reati di ogni tipo preoccupando i cittadini e arrecando diversi danni in giro per la città. L'uomo avrebbe negli ultimi tre anni ingaggiato una guerra personale contro una famiglia sempre di Scicli che lo avrebbe licenziato dalla ditta dove lavorava. Da quel momento il tunisino si sarebbe scagliato contro le sorelle con attentati piromani prima contro il salone di parruccheria di una poi contro l'auto dell'altra. Attentati intimidatori intervallati da momenti di paura dato che non mancava di pedinare la famiglia, farsi trovare sempre sotto casa e impaurirla in ogni modo possibile. In un'altra circostanza l'uomo avrebbe appiccato il fuoco ai contatori enele di un palazzo per poi andare a casa, cambiarsi d'abito e intercettato da alcune persone avrebbe detto di non ricordare nulla, neanche il proprio nome. Grazie. 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 Grazie.